La frazione di Cassibile si è fermata questa mattina per rendere l'estremo saluto ad Antonio Galvano, il 38enne caposquadra Augustano che ha perso la vita mercoledì dopo essere precipitato dal tetto del capannone della ditta metalmeccanica in cui lavorava. Centinaia di persone hanno partecipato al rito funevere, tanto che la chiesa di San Giuseppe è risultata troppo piccola rispetto alla mole di persone presenti che hanno affollato l'antigua piazzetta. A ufficiare il rito funebre è stato il parroco delle chiese di Cassibile Don Salvatore Arnone che in questi giorni è stato al fianco della famiglia dello sfortunato operaio. Anche il sindaco Garozzo insieme con il presidente del consiglio di circoscrizione Paolo Romano ha partecipato al rito funebre al pari dei segretari generali e di categoria delle organizzazioni sindacali. Una presenza materiale ma anche simbolica rispetto al tema della sicurezza dei luoghi di lavoro che diventa centrale e imprescindibile. Sul fronte delle indagini il PM Salvatore Grillo ha iscritto al registro degli indagati tre persone accusate di omicidio colposo. Il magistrato vorrà verificare se vi sia una responsabilità in ordine alla morte di Galvano e si affiderà a consulenti tecnici per accertare la dinamica dell'incidente.